L'adio calore è molto, molto, molto particolarmente croccante. Croccante? Sì, perché è una calota. Ah, e perché, amore? Perché il bimbo dicono di sì perché l'adio calore è molto, molto croccante. Ma cosa vuol dire croccante? L'adio calota. Eh, ma è bello? E si divertono i bimbi? Sì. Perché? Perché le maestre? Perché le maestre le fanno cura di loro. Ah, ok. Fanno cura di loro. Ma sono bravi le maestre, vero? Sì, sì. Me la stai raccontando a te, la favola. Me la stai raccontando a me, la favola, giusto? Me la stai raccontando a me, la favola, giusto? No. Me la stai raccontando a me. Grazie a tutti.